Economista britannica, autrice di best-seller e consulente internazionale su temi di economia, geopolitiche e tendenze globali, Norina Hertz mostra fin da subito spiccate doti di leadership. Si laurea in filosofia ed economia a soli 19 anni. A 23 già collabora con il governo russo su piani di riforma economica e contribuisce alla fondazione della Borsa di San Pietroburgo. Nota in tutto il mondo per le sue idee visionarie, i suoi articoli vengono regolarmente pubblicati dal Washington Post, Guardian e Observer. Proprio The Observer l'ha citata come una delle più importanti giovani pensatrici del mondo. Oltre al contributo a importanti pubblicazioni e approfondimenti televisivi, Norina Hertz partecipa regolarmente ai principali appuntamenti internazionali, dal World Economic Forum a convegni dove condivide la scena con nomi quali Bill Clinton e Al Gore. I suoi libri sono tradotti in 22 lingue. Punto di riferimento nell'arte del decidere, i suoi studi sono uno spunto perfetto per affrontare il mondo complesso del nostro presente. La proposta di riforma Ingrediente jesi timore Grazie.